Musica Elezioni regionali, scelto il candidato alla presidenza per il centrodestra, Berlusconi si affida a Stefano Caldoro. Mal tempo, forte mareggiata nella notte, danni incendi al porto di Scario. Cinghiali, ok dalla regione Campania, il prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate, soddisfazione del sindaco Vittorio Esposito. Sala Consilina, oggi la tappa del tour Diabete e Famiglia, promosso dall'Aslo Salerno. Casa al Buono, dal 22 al 24 novembre, la manifestazione gastronomica dal titolo Sapore Autentici. Buonasera e ben trovati con il nostro telegiornale in apertura alla politica. E Stefano Caldoro, il nome scelto dal centrodestra per sfidare l'uscente Vincenzo De Luca, alla guida della regione Campania. L'investitura è arrivata nella serata di ieri, direttamente dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. In Campania c'è fermento in vista delle prossime elezioni regionali. Al momento in primo piano è la scelta per i partiti dei nomi su cui puntare per la presidenza della regione. Nel centrodestra i giochi sembrano essere stati ormai definiti. Arriva l'ok dell'intera coalizione sulla scelta del candidato alla presidenza, compatti sul nome di Stefano Caldoro, già governatore della regione Campania negli anni dal 2010 al 2015. L'annuncio è arrivato nella serata di ieri al termine di un incontro inserato direttamente da Silvio Berlusconi. Un nome che mette quindi tutti d'accordo con Lega e Fratelli d'Italia che avrebbero manifestato il loro sostegno e l'approvazione sul nome del capogruppo di opposizione in consiglio regionale. Fuori dai giochi invece Mara Carfagna, che secondo il quotidiano Il Mattino sembrerebbe sempre più lontana dal partito che l'ha lanciata in politica. Stefano Caldoro è quindi il nome su cui si punta per la guida della regione Campania e per sfidare il centro-sinistra che al momento dovrebbe puntare ancora su Vincenzo De Luca. Il suo nome era in bilico, visto il veto dei Cinque Stelle, ipotizzando una nuova presenza in coalizione. Dopo l'esito delle elezioni regionali in Umbria, in cui i partiti di governo con il gruppo PD Movimento Cinque Stelle uscito sconfitto, i pentastellati non sembrerebbero disposti a ripetere l'esperienza. Se così sarà, non essendo state presentate proposte alternative, per De Luca a strada spianata per la ricandidatura. Stefano Caldoro, intanto, forte anche del sostegno e della stima ricevuta non soltanto da Silvio Berlusconi, ma anche dai leader della coalizione, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, è già al lavoro per proporre la sua idea di campania. L'impegno del candidato presidente è anche rivolto a ricompattare il gruppo di Forza Italia per una campagna elettorale all'insegna dell'unità e dell'intesa. Secondo quanto riportato sul quotidiano Il Mattino, infatti, il leader di Forza Italia ha deciso di puntare sull'ex governatore proprio per la sua capacità di interazione e di confronto. Ho già ringraziato il presidente Berlusconi, ha dichiarato Stefano Caldoro. Adesso ha lavoro per un centrodestra unito allargato con esperienze liste civiche. Ed ora cambiamo argomento. L'intensità delle onde dovute al forte maltempo ha provocato degli ingenti danni in tutto il territorio salernitano. Tra le aree più colpite il porto di Scario. Vediamo il servizio. Il maltempo non risparmia il sud della provincia salernitana. Danni ingenti si sono registrati al porto di Scario, dove le forti mareggiate, oltre a danneggiare le imbarcazioni in mare, hanno addirittura abbattuto un muro di cinta. Fortunatamente non si registrano feriti. I danni subiti però sono ingenti. Le intense piogge abbattutesi nella notte su tutta la provincia salernitana hanno provocato danni enormi, colpendo anche la località rivieresca di San Giovanni Appiro. Immagini sconfortanti sono apparse nella mattinata di oggi. La forte intensità delle mareggiate è riuscita infatti ad abbattere completamente le costruzioni realizzate lungo il molo ed in particolare un muro. La forza delle onde è inoltre riuscita addirittura a spostare grossi massi che fungevano da barriere frangifrutti. Da anni ingenti ha subito anche il molo che lungo tutto il suo percorso è stato rosicchiato dal mare. Alcune imbarcazioni temporaneamente ormeggiate al porto sono inoltre state abbattute dalla furia. Immagini scioccanti che hanno lasciato immaginare la forza del mare con crescente preoccupazione per i danni che possono derivare dal maltempo. Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro guidati dal tenente di Vascello Francesca Federico del Re che a seguito dei danni riportati e vista la pericolosità del luogo ha disposto la chiusura della banchina colpita dalla forte mareggiata. Visto quanto accaduto al porto di Scario, gli uomini della Capitaneria hanno effettuato inoltre sopralluoghi anche sui porti di Pisciotta e Sapri per verificare le condizioni delle aree dopo il forte maltempo che ha interessato tutta la provincia. Intanto il bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania parla di allerta meteo che seppur di criticità gialla impone comunque l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità delle persone e per la messa in sicurezza delle aree a rischio. Associazione dedita al contrabbando delle sigarette 9 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza secondo quanto emerso dalle indagioni i soggetti avevano messo su una vera e propria organizzazione per quanto riguarda il trasporto di sigarette dal centro Italia con destinazione Battipaglia l'operazione segue un primo intervento effettuato dalle fiamme gialle nel novembre del 2017 che aveva portato al sequestro di 8 tonnellate di sigarette 8 tonnellate di sigarette sequestrate e 9 arresti è l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno che questa mattina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 9 indagati ritenuti appartenenti ad un'associazione dedita al contrabbando di sigarette verosimilmente provenienti dall'est Europa le indagini hanno consentito di ricostruire la spedizione di 4 container per un totale di oltre 33 tonnellate di tabacchi lavorati esteri che a bordo di auto articolati hanno viaggiato dal centro Italia, Bologna e Dancona fino a raggiungere Battipaglia ben definiti i ruoli dell'organizzazione alcuni curavano il viaggio, i contatti con i fornitori e gli acquirenti finali altri invece avevano il compito di individuare i locali chiusi e non visibili dall'esterno dove effettuare le operazioni di trasbordo del carico l'organizzazione disponeva di una base operativa per lo stoccaggio degli ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri presso un capannone di Battipaglia un primo intervento delle fiamme gialle salernitane aveva portato già nel novembre del 2017 al sequestro di oltre 8 tonnellate di sigarette e all'arresto dei 4 contrabbandieri intenti a sistemare la merce in un capannone dell'area industriale di Battipaglia le sigarette sequestrate recavano tutto il marchio origina si tratta delle cosiddette chip white prodotto a basso costo che non essendo destinato al mercato nazionale non riporta neanche le avvertenze sui pericoli per la salute dei fumatori si trovano sulle bancarelle a prezzi variabili intorno ai 3 euro al pacchetto due degli indagati sprovvisti di mezzi di sostentamento avevano pure chiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza che è stato sospeso con l'esecuzione della misura cautelare la giunta regionale della campania ha approvato nella giornata di ieri la proposta avanzata dal CRIUV per il prelievo selettivo dei cinghiali soddisfazione espressa dal sindaco di Sanza Vittorio Esposito primo passo a difesa delle coltivazioni agricoli da danni provocati dai cinghiali la giunta regionale della campania pare abbia dato il via libera alla proposta del centro di riferimento regionale per l'igiene urbana e veterinaria finalizzata ad autorizzare la caccia al cinghiale in aree specifiche che saranno stabilite dall'ambito territoriale di caccia una notizia che accolta con favore e commentata positivamente dal sindaco di Sanza Vittorio Esposito che nei mesi scorsi si era fatto portavoce degli agricoltori che avevano visto i loro raccolti completamente distrutti dagli ungulati arrivati fin nei pressi del centro abitato la problematica sollevata dal sindaco Esposito aveva raccolto successivamente anche l'appoggio di numerosi altri sindaci oltre che di esponenti politici del territorio ora si registra anche un passo avanti della regione campania che con delibera di giunta nella serata di ieri ha dato il via libera alla proposta del CRIUV che propone un programma di prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate della regione campania una proposta che ha ricevuto l'ok anche dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale secondo quanto emerge la proposta prevede praticamente la possibilità di poter cacciare cinghiali durante tutto l'anno con metodi selettivi in aree che saranno individuate dagli ambiti territoriali di caccia un progetto che potrà così essere utile ad arginare e proliferare degli ungulati in determinati territori e che provocano ingenti danni alle coltivazioni Un'ottima notizia, commenta Vittorio Esposito che dimostra ancora una volta l'attenzione della regione campania e del governatore De Luca verso le problematiche manifestate dai territori e delle aree interne Era l'unica soluzione possibile, ha aggiunto il sindaco Esposito l'apertura della caccia durante tutto l'anno per arginare l'emergenza causata dal proliferare degli ungulati Ora che la caccia al cinghiale sarà consentita tutto l'anno nelle aree individuate dagli ambiti territoriali di caccia con metodi selettivi siamo certi che nel breve periodo riusciremo a mettere sotto controllo il problema Alle chiacchiere dichiara in conclusione Esposito che hanno fatto in tanti sull'argomento l'unica vera risposta è arrivata dalla regione In questi giorni nelle piazze della provincia il camper dell'aslo di Salerno per il tour 2019 di Diabete e Famiglia in occasione della giornata mondiale contro il diabete che si celebra domani 14 novembre oggi la tappa a Sala Consilina In occasione della giornata mondiale contro il diabete che si celebra domani 14 novembre l'aslo di Salerno ha organizzato Diabete e Famiglia Tour 2019 un tour finalizzato a promuovere sul territorio provinciale le iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sul diabete sulle attività della rete diabetologica dell'azienda l'iniziativa prevede 5 appuntamenti nei quali una postazione mobile dell'aslo è presente nelle diverse piazze oggi fino alle ore 18 la tappa di Sala Consilina con il camper in via Pozzillo di fronte all'ex sede del distretto sanitario personale specializzato e operatori dell'aslo impegnati in screening e attività di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione dell'adozione di corretti stili di vita e di alimentazione sulla gestione della patologia diabetica e delle problematiche correlate presente anche l'associazione Diabetici Cilento e Ballodidiano a rappresentarla il professore Franco De Luca Mi fa piacere tantissimo questo intervento dell'aslo Salerno 3 che sta facendo questa campagna di attivazione di questionari, di screening per tutto il territorio del Sanitano difatti già sono state a Battipaglia, a Salerno oggi sono qui a Sala e naturalmente domani saranno in paravallo e a Sapri La gente sta arrivando, sta arrivando vedendo il camper può fare lo screening di tutto quanto è possibile più tardi nel pomeriggio arriveranno fuori i ragazzi delle scuole accompagnati dai propri genitori e quindi faranno lo screening del diabete è importante la prevenzione oggi il mangiare bene, il mangiare sano è importantissimo è la prima fase per evitare il diabete Ed ora la cronaca giudiziaria ieri pomeriggio davanti al gruppo del Tribunale di Lago Nigro si è discusso della capacità di intendere e di volere di Carol Lapenta reo confesso dell'omicidio di Antonio Pascuzzo avvenuto a Buonabitacolo il 6 aprile del 2018 di soggetto borderline ma capace di intendere e di volere hanno parlato i periti nominati dal Tribunale di Lago Nigro e semi-infermità di mente invece il perito di parte queste le due posizioni contrastanti emerse la prossima udienza è fissata per il 12 dicembre quando verranno fatte le richieste da parte della Procura e si potrebbe arrivare dunque ad una sentenza andiamo avanti questa mattina presso l'Istituto Professionale per Agricoltura Sala Consilina l'Avvocato Angelo Paladino Presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio e la dirigente dell'Istituto Marco Tullio Cicerone la professoressa Antonella Vairo insieme con i docenti protagonisti hanno illustrato i risultati del meeting formativo internazionale tenutosi a Lisbona nell'ambito dell'Erasmus più Educal Food insegnare i sistemi alimentari locali sostenibili il progetto si svolge nell'arco di tre anni dal 1 settembre 2018 al 31 agosto del 2021 coinvolge un partenariato a livello europeo costituita dalla Bergerie Nationale di Rambouillet dall'Università Bocco di Vienna dall'Università di Lisbona dall'Università di Maribor e dall'Osservatorio Europeo del Paesaggio di Sala Consilina presieduto dall'Avvocato Angelo Paladino che ha indicato l'Ipsar locale per questa avventura va detto che l'Istituto Salese è l'unica scuola superiore che si sta confrontando a livello europeo con realtà universitarie con l'iniziativa si punta a creare specifici strumenti a supporto dell'insegnamento quindi a far conoscere i docenti oltre che agli studenti i più efficaci e innovativi sistemi in ambito agroalimentare in riferimento ad un nuovo assetto dell'agricoltura europea a Lisbona c'erano i docenti dell'Ipsar la professoressa Marianne Infante e il professor Paolo Giglio andiamoli ad ascoltare questo progetto è un progetto Erasmus Plus ed è un progetto che cerca di educare al cibo locale ed è destinato ai docenti due docenti dell'Istituto la professoressa Infante e il professor Giglio sono stati a Lisbona in questo meeting internazionale dove c'erano delegazioni francesi, austriache, slovene e appunto portoghese e devo dire che per le notizie che mi hanno poi dato i partner internazionali l'apporto italiano è stato rilevante quindi un complimento ai docenti che hanno partecipato e a questo istituto l'Istituto per l'agricoltura che credo che per il Vallo Ediano è un punto di riferimento assoluto sono tematiche che ormai sono nei programmi internazionali i programmi europei sono finanziati ed è giusto che a questo istituto vaga dato il merito che ha le capacità che gli vengono riconosciute è un invito anche alle famiglie e ai ragazzi ad attenzionare l'Istituto Agrario di Sala Consilina e sceglierlo anche per la loro formazione è stato innanzitutto un viaggio di formazione di crescita un'occasione, un'opportunità per noi docenti dell'Ipsar Cicerone di Sala Consilina davvero proficua e formativa sotto ogni aspetto è stato appunto un meeting formativo che ci ha fornito degli spunti necessari per poter ottimizzare e quindi migliorare anche le nostre abilità le nostre competenze in classe perché i contenuti sono relativi al sistema alimentare locale sostenibile e quindi abbiamo come dire messo a punto delle strategie efficaci e dei principi come dire validi e adatti per la nostra utenza affinché potesse appunto rispondere adeguatamente appunto ai contenuti esposti inizialmente Il secondo step che abbiamo condotto a Lisbona è stato estremamente proficuo è stato un ulteriore passo in avanti rispetto alla messa a punto di metodologie didattiche condivise tra tutti i partner al fine di trasmettere sistemi locali sostenibili quindi al fine di educare i nostri ragazzi al meglio sulle politiche della sostenibilità e sul consumo locale Abbiamo messo a punto delle sequenze pedagogiche che consentivano a noi docenti partendo da esperienze pratiche come ad esempio la degustazione di cibi locali poter rinnestare i discorsi di tipo teorico e quindi andare a quella che è la tecnica produttiva a quella che è la valorizzazione la commercializzazione dei prodotti facendo toccare con mano quindi ai ragazzi quelli che sono i prodotti locali Domenica 17 settembre alle ore 18 all'auditorium comunale Giuseppe Amabile di Sant'Arsenio ci sarà un incontro promosso dal comitato Nobbiometano non possiamo rimanere nel dubbio che i nostri terreni siano inquinati dicono dal comitato vogliamo delle risposte il comitato quindi intende con questo incontro diciamo parlare alla luce dei fatti dei fatti di cronaca ambientale che hanno riguardato il comune di Sant'Arsenio entra a prendere un confronto con i cittadini e le istituzioni che sono invitate ad intervenire oltre che continuare in questo modo a mantenere vivo il dibattito con la cittadinanza sulle questioni ambientali del paese e dell'intero comprensorio valdianese ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie a tra poco Bentrovate alla seconda parte del nostro telegiornale il consiglio comunale di Eboli ha votato all'unanimità un documento sulla sanità ospedaliera locale con al centro l'ospedale cittadino sollecitando nel potenziamento e chiedendo degli interventi urgenti per le criticità presenti vediamo un documento votato all'unanimità che sottolinea eccellenze e contemporaneamente chiede interventi urgenti per le criticità il consiglio comunale di Eboli ha licenziato una deliberazione sulla sanità ospedaliera cittadina che mette al centro l'ospedale sollecitando nel potenziamento e garantendo i livelli di assistenza necessari il consiglio ha accolto le indicazioni del presidente Fausto Vecchio che coordinando i lavori ha proposto una sintesi tra i documenti presentati nella seduta realizzando così un documento comune e abbiamo voluto indicare l'urgenza di alcuni interventi spiega il sindaco Massimo Carillo ma anche sottolineare le nostre eccellenze i risultati raggiunti come la realizzazione della rete oncologica i risultati si raggiungono se si fa squadra per questo ho voluto che il consiglio votasse un documento condiviso un atto con il quale si indica ai livelli sanitari regionali l'importanza del nostro ospedale gli interventi immediati da realizzare l'assistenza da garantire ai cittadini e il documento si compone di diversi punti delegando il sindaco Cariello alla verifica della sua realizzazione presso Regione ed Asl Salerno abbiamo in sostanza spiega Fausto Vecchio chiesto di intervenire sulla carenza di personale mettendo mano al turnover il documento pone l'accento anche sulla necessità di nuove apparecchiature e sulla verifica del processo di edilizia sanitaria da Eboli si sollecita l'utilizzazione dei fondi per intervenire sul blocco operatorio ma anche di mettere mano all'ampliamento di aree parcheggio e verificare l'iter per la realizzazione dell'ospedale unico un programma ambizioso ma necessario che sarà prospettato a Regione ed Asl e sul quale vigileremo costantemente Torniamo nel Vallo di Diano domenica prossima 17 novembre la sedicesima edizione della manifestazione gastronomica due castagne e un bicchiere di vino organizzata dalla Proloco di Sassano con il patrocinio del Comune si terrà presso il ristorante La Campagnola Silla di Sassano l'inizio è previsto per le ore 17 e durante la serata si potranno degustare dei prodotti tipici del periodo autunnale quindi castagne, polenta, castagnaccio e vino novello l'ingresso è libero e l'evento sarà lietato dalla partecipazione straordinaria di Totino Melillo andiamo avanti sabato 9 novembre a Sicignano degli Alburni si è tenuto un seminario presso l'auditorium comunale e quindi un convegno dal titolo Amministrare la comunità la politica delle donne per il territorio con diverse amministratrici protagonisti a livello comunale e regionale il seminario è stato organizzato dall'associazione locale Arcobalino insieme al Forum dei Giovani il servizio a Sicignano degli Alburni si è tenuto il confronto amministrare le comunità la politica delle donne per il territorio un incontro che ha riunito intorno ad un tavolo le storie e le difficoltà di chi guida i comuni dinanzi ad una platea numerosa con ben 25 comuni salernitani rappresentati da amministratori ed amministratrici dopo i saluti agli ospiti da parte del sindaco Ernesto Millerosa l'incontro è stato moderato dalla giornalista Margherita Siani che ha evidenziato alcuni dati significativi i quali rappresentano la concreta presenza del problema e sono lo spunto che rendono questo tema di discussione non ideologico ma vero e reale in Italia le donne amministrano poco più di 10 milioni di abitanti la presenza di genere infatti è di 1131 sindache rispetto ai 6783 sindaci che governano i comuni italiani solo soffermandoci nella regione Campania su ben 550 comuni le donne sindaco sono solo 27 la presenza di quest'ultime è maggiore solo nei comuni fino a 15 mila abitanti per quanto riguarda le giunte comunali con meno di 15 mila abitanti solo negli ultimi anni grazie all'effetto delle quote rosa che hanno imposto un equilibrio di genere vediamo come la presenza di assessore sia nettamente aumentata in Italia la parità nel lavoro è lontana con una stima percentuale di uomini occupati di 20 punti maggiore rispetto alle donne anche dal punto di vista delle retribuzioni a parità di condizioni le donne lavorano gratis due mesi l'anno in Europa vi è un differenziale retributivo del 16% un divario che in provincia di Salerno raddoppia il freno è posto dagli ancestrali problemi legati al ruolo della donna e dalla scelta di essere con lei che cede rispetto ai carichi e dai bisogni familiari durante il confronto le testimonianze sono state affidate alla sindaca di Salvitelle Maria Antonietta Scelza che si è soffermata sull'importanza di far sentire la propria voce lavorando sodo quotidianamente anche amministrando un piccolo centro in seguito sono intervenute anche la sindaca di San Cipriano Picentino Sonia Alfano Anna Rosa Sessa sindaca facente funzione di Pagani e la sindaca di Battipaia Cecilia Francese queste ultime hanno raccontato le insidie che si celano nell'amministrazione di una città per poter dare le giuste risposte ai cittadini e dalle difficoltà che le donne incontrano in questo campo la presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio ha sottolineato come la regione anche per sua iniziativa sia stata la prima in Italia ad aver introdotto la doppia preferenza che ha portato in consiglio da 2 a 12 le donne presenti legge che tutt'oggi manca in alcune regioni italiane hanno preso parte al confronto anche Domenico Russo Clemi De Maio il presidente del forum dei giovani di Siciniano Giacomo Orco e Giovanna Pagnani presidente quest'ultima dell'associazione Arcobaleno che ha sottolineato come anche un piccolo soggetto associativo può costruire opportunità per fornire gli strumenti adatti per superare le difficoltà di accesso al lavoro delle donne venerdì 15 novembre alle ore 20 presso l'auditorium comunale di Atena Lucana il primo poetry slam ufficiale organizzato dalla Proloquo Atena Nova è una competizione in cui si ci sfida a colpi di poesie il poetry slam è una forma d'arte che viene dalla strada ogni slam era i suoi minuti a disposizione per stare davanti al pubblico e quindi recitare una sua poesia senza accompagnamenti musicali o alcuna scenografia la giuria scelta in maniera casuale tra il pubblico decreta quindi il vincitore e da venerdì 22 a domenica 24 novembre a Casalbuono si terrà la manifestazione gastronomica a sapori autentici organizzata dalla Proloquo e dal Comune tre giorni di degustazioni workshop e concorsi tre giorni di degustazioni e workshop a Casalbuono con sapori autentici la manifestazione gastronomica organizzata dalla Proloquo e dal Comune da venerdì 22 a domenica 24 novembre si susseguiranno una serie di appuntamenti con l'obiettivo di rilanciare prodotti tipici locali ben sette le varietà di fagioli locali a dimostrazione della ricca biodiversità comune a tutte loro un gusto delicato e una buccia particolarmente sottile che assicura un'alta digeribilità e c'è poi la famosa polvere di peperone dolce ingrediente segreto delle zuppe di fagioli nonché degli inzaccati sapori autentici nasce dalla Volondati un gruppo di amici innamorati del proprio territorio intenzionati a creare una rete di distribuzione e commercializzazione che sostenga i produttori e quindi l'economia agricola locale conosciamo le difficoltà strutturali di una piccola comunità come la nostra commenta il referente dell'iniziativa Italo Bianculli che soffre delle condizioni in cui versano tutti i piccoli comuni dell'entroterra ma siamo convinti che partendo dalla qualità dei nostri prodotti e con la volontà di fare squadra si possa riuscire a creare una filiera comprensoriale del gusto che raggiunga tutti i consumatori attenti e desiderosi di portare in tavola prodotti tradizionali e genuini Sapore Autentici parte venerdì 22 novembre alle ore 17.30 presso l'auditorium Massimo Troisi con la presentazione dell'iniziativa e del progetto a seguire la cena le eccellenze del Vallo di Diano in degustazione dalle ore 20.30 presso il ristorante Villa Consilinum di Padula sabato si parte alle ore 10.30 al Castello Baronale con il concorso gastronomico fagioli di Casalbuone e dintorni presentato dalla giornalista Antonella Petitti show cooking e degustazione con lo chef Franco Marino e le migliori promesse della cucina degli istituti alberghieri alle ore 12.30 poi la premiazione infine il 24 novembre al centro polifunzionale locale Giovanni Paolo II il pranzo della domenica a cura della Proloco una festa di comunità a base di fagioli e altre eccellenze del territorio e con questo servizio si conclude quest'edizione serale del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti